musica what the aaaah aaaah musica 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 hakuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro cichiochimero89 siamo tornati su clash royale signori oggi ci andiamo ad aprire il baule del clan in più questo è il deck che ho utilizzato in torneo però non ce ne frega niente anche se vi devo dire che quasi quasi il domatore lo rimetterei nel deck allora facciamo una cosa se arriviamo in questo episodio a 50 mila mi piace dalla prossima volta ritorno ad utilizzare il domatore per un po' di partite per un po' di video riavremo il domatore in campo sta a voi ma oggi continuiamo con questo setting qua allora signori andiamoci a aprire il baule del clan spostiamo il cellulare così non ci rompono le palle speriamo di trovare una leggendaria anche se non l'ho mai trovata in questo baule un bocciatore c'è buono una furia c'è buona la cura c'è buona il goblin va bene oh il legge ma che cos'è non l'ho mai trovato non ho mai trovato una leggendaria in questo fottuto baule e con voi abbiamo trovato il minatore ragazzi altro che 50 mila like sono contento perché una leggendaria gratis senza pagarla incredibile pazzesco emozionante come stanno messi in Italia non lo so perché sono due giorni che non gioco guardate comunque non stiamo lontani oh non stiamo lontani dice no perché ciccio gamer eccoci siamo 85 esimi in Italia quindi non stiamo lontani non sono partite scontate questo è quello che vi voglio dire allora abbiamo tutto quanto il rack siamo pronti lui mi fa il pollice in su e lo mutiamo così almeno non ci abbiamo pensieri io direi che è il momento di cambiare secondo me mettere un bel domatore andare a rompere bene bene le palle ci potrebbe stare in tranquillità vi dico qua ci ha detto un poco di sfortuna secondo me ci può stare un po' di sfortuna anche se le nostre hit le abbiamo fatte il baby dragon praticamente mi ha distrutto tutto quanto se andava anche in hit era spettacolare se andava in hit un pochino più pesante allora visto che tu mi vuoi giocare così e fai anche un po' lo stronzo ti voglio mettere in difficoltà estrema io comunque sai che c'è non voglio sprecare perché guardate comunque lui mi danneggia anche il bocciatore comunque è una carta che lui non utilizzerà possiamo fare sicuramente così gli arcieri mi danno una mano spettacolare preferisco fare così ragazzi preferisco fare così perché noi siamo matti noi siamo matti e gli dobbiamo buttare giù quella cavolo di torre con un'antipatia guarda voglio rischiarmela voglio rischiarmela e ragazzi e ragazzi ci sta ci sta calcolate che lui ha speso moltissimo per farmi questo attacco anche è vero che sicuramente non mi vorrà attaccare più da quella parte anzi tanto è vero che io gliela regalerei sinceramente gli regalerei regalerei quella unità là buttiamo questa roba che ci interessa possiamo sicuramente fare così io sono contento perché comunque andiamo in hit con la mongolfiera forse di due no di due no ma sono stato molto fiero dell'attacco che abbiamo fatto vi ricordate che lui comunque ha la ghiaccio che da tantissimi problemi ma io non posso assolutamente permettermi di guardate guardate quell'arciere ragazzi quell'arciere ha fatto dei danni pazzeschi raga quell'arciere ha fatto dei danni pazzeschi e io ragazzi ne sto approfittando io ne sto approfittando voglio lanciare tutta la roba che posso lanciare tutta raga perché lui non deve capire più niente anzi vi dirò lui non deve avere assolutamente l'opportunità di potermi attaccare malamente nel senso che non gli devo dare l'opportunità bella lì vai a casa va di tirarmi la cimitero che appunto fa parecchi danni gg perci bella roba qua siamo riusciti comunque a difendere abbastanza bene aspettate che sistemo leggermente la videocamera prima partita ce la siamo portata a casa sono molto soddisfatto tra l'altro voi mi avete detto che entro dieci bauli dovrei avere il super magico quindi non giocherò da solo perché lo voglio trovare insieme a voi quindi magari fra due episodi lo potremmo trovare gli facciamo un pollicione e lo blocchiamo questo è il mio metodo per non incazzarmi ulteriormente su clash royale io sono curiosissimo di vedere se voi volete il domatore questa è una cosa che sono molto molto curioso lui non mi tira niente quindi io posso procedere così continua a non tirarmi niente ci sta ragazzi guardate vi dico ci sta che lui mi tiri il domatore lì ci sta anche se non capisco molto bene quello che ha fatto perché gli stiamo facendo dei danni paurosi ragazzi cioè non lo so non lo so voi l'avreste tirato il domatore io sinceramente no perché là tu sei andato non lo so dove sei andato sicuramente a fancù perché poi mi sta splittando i danni quindi io ancora non capisco cioè ancora di più non capisco potrei tirare una palla di fuoco fare fuori una truppa da tre o non mi ricordo penso da tre però evito ma invece che evitare completamente voglio fare così e voglio fare lo zuzzerellone lasciatemi il termine zuzzerellone perché lui ha sprecato un sacco di elisir che noi appunto gli stiamo togliendo con degli arcieri gli è rimasto assolutamente il domatore che se io fossi lui appunto tirerei il prima possibile facciamo così perché se no mi faceva veramente troppi danni sta recuperando lo stronzo sta recuperando e ci sta perché comunque anche lui saprà giocare no quindi mi sta un po' recuperando possiamo buttare gli arcieri lui non ha avuto guarda bello questo è stato bello mi ha spostato giuste giuste le unità è stato perfetto arcieri che fanno delle hit ragazzi cioè gli arcieri così sotto torre sono maledetti te la buttano giù e non te ne accorgi te la buttano giù e non ti accorgi di niente veramente particolare quindi possiamo fare così probabilmente andiamo a perdere la torre probabilmente andiamo a perdere nuovamente la torre ma non mi interessa perché tanto quel domatore mi può far male assolutamente ma non quanto noi gliene possiamo fare a lui questo è abbastanza ovvio quindi lanciamo anche una bella sferetta infuocata ok ok tra l'altro ragazzi mi si sta scaricando nuovamente la batteria quindi penso che l'ultima ok ammazza e neanche l'ho guardata la videocamera e si è spenta ma certo che oh sei una bella strunza ok eccoci qua andiamoci ad aprire il baule della corona vi dirò due partite che a me sono piaciute buono anche una epica ok e andiamoci a fare l'ultima partita che se vinta ci potrebbe portare sopra le 4900 trofei signori vediamo un po' come va comunque il domatore avete visto ci ha dato del filo da torcere assolutamente lui mi sgancia gli scheletrini io posso fare la stessa identica mossa lui mi butta un principe da quella parte io sinceramente mi faccio mi mantengo in vita i ragazzotti anche se appunto non mi ha portato nulla in realtà di buono però guardate che bello rischio tantissimo sto comunque rischiando tantissimo ragazzi ho preferito mantenermi un po' di elisir però però facendogli parecchio male ovviamente non so come ha fatto a girare sinceramente così velocemente il deck non lo so non me lo dite vabbè che c'ha un deck molto stronzo lui eh perché ce l'ha veramente veramente stronzo però non so effettivamente come abbia fatto o ha fatto un trucco di magia incredibile perché non so come abbia fatto allora ragazzi qua il mortaio sapete che è un deck cioè il deck col mortaio è un deck pessimo per me lo usano le persone che non sono capaci di vincere con delle truppe normali cioè ve lo dico proprio con una tranquillità imbarazzante secondo me eh cioè io ve lo dico per me è così quindi andiamo a zappare quello che c'è da zappare purtroppo vedete c'ha gli scheletrini che mi danno un sacco di problemi un sacco di problemi baby dragon pensavo fosse riuscito ad andare in it invece non è successo così quindi noi che facciamo io in qualche modo comunque ragazzi devo attaccare quindi magari anche sbagliando devo comunque attaccare vedete lui sta in ultra difensiva sta cerchando in tutti i modi di difendersi però comunque secondo me un pochino non dico massimo dico un pochino in vantaggio potremmo essere secondo me quindi è la prima volta che ho anche la combo con la mongolfiera attiva butto un baby dragon abbastanza buono potevo tirare una scarica e probabilmente sarei andato meglio in it quindi a me va bene comunque questa storia che lui spreca tantissimo tantissimo elisir tantissimo quindi andiamo così andiamo così ci dobbiamo cercare dobbiamo cercare di difenderci al meglio possibile quindi ok cavolo ho provato a fare una pre raid un po' particolare sinceramente ci ho provato tantissimo non ci sono riuscito siamo leggermente avanti noi ma come potete capire non è niente a confronto a quello che sta facendo lui assolutamente non è niente perché oddio questo potrebbe effettivamente portarmi a un risultato ottimo perché non ho potuto sganciare tutto quanto insieme in realtà io volevo volevo avete proprio sentito bene andare da un'altra parte con la bongolfiera non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta diciamo che ce la stiamo giocando bene in realtà io non posso assolutamente andare nella stessa parte di dove vado normalmente devo andare da un'altra parte come potete vedere è così questa partita lui non se la meritava mai lui non se la meritava mai questa partita vi posso garantire che con un altro po' di tempo gli spaccavamo il culo ok queste sono persone che non sono capaci di giocare ce lo dico e qua non lo nego sono persone che non sono capaci di giocare almeno a mio avviso signori io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua due vittorie un pareggio ci sta signori se il video di oggi vi è piaciuto pollice in su commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi al prossimo appuntamento vostro in cieco per 89 ciao ciao